Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fai innamorare, una cosa che tu fai innamorare, una cosa che tu fai innamorare, che tu fai innamorare, una cosa che tu fai innamorare, sono soprattutto dove si riviscono le radiazioni di finanziarie, dove si riviscono le radiazioni di finanziarie, dove si riviscono le radiazioni di finanziarie bassissime. Mattia, 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 apri questa porta. Stiamo parlando di una delle strutture più importanti a livello nazionale. Ho sentito, Marta, me lo devi darti da fare. Forza! Vai, Leonardo! Marta, ma che bello questo vestito, non l'avevo mai visto. Così, convinti? Ma perché non te lo mette all'audizione? Ora che sei tu che sogni di farla modella da grande, mica io. Sì, quando non mi chiede, mi chiede è vicino di farlo, I find it hard to tell me, I find it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad world 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 Grazie a tutti.